Buonasera a tutti, eccoci qui un altro appuntamento con Sentiamo la sua e l'ospite di questa sera è il capogruppo di Forza Italia, naturalmente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, Massimo Buschini. Buonasera a tutti i telespettatori. Caro Massimo, intanto ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie al tuo invito, anche io ringrazio. Senti, ma è un momento particolare questo della politica amministrativa Civitavecchia, secondo te? Penso proprio di sì. Ah sì? Penso proprio di sì, sì. Diciamo che intanto l'ultima settimana ci ha portato a portare a termine, anche se parzialmente, anche se parzialmente un risultato direi più che soddisfacente. Sei stato pronto subito a scommettere sulla tua onestà intellettuale che è stata sempre una tua caratteristica? Certo, certo. Ti ringrazio. Da quando? Parliamo degli anni 98-2000. L'abbiamo già detto l'altra volta. Sì, siamo cresciuti insieme. Perché poi le circoscrizioni non erano mica tanto negative. No, no, no. Anzi, propositive, dirette con il pubblico, ma soprattutto con i propri residenti nell'ambito territoriale. E noi soprattutto tu, la prima circoscrizione, e se tu ti ricordi, noi ci vediamo nella sede qui a Via Traiana. Esatto. È vero o no? Inizialmente poi ce l'avevo lì all'ex sede dove c'era la pulizia municipale in Via Sabatino. Esatto. Mi ricordo quel risultato, perché ancora me lo ricordo come se fosse ieri, voglio dire. Nel 1998, quando Tidei prese un consenso con il 72%, 4 circoscrizioni e 3 appannaggio del centro-sinistra, l'unico all'appannaggio del centro-destra. Esatto. Ma vabbè, ma questo era un passato... Ho fatto piacere che ha confermato che mi ricordo, perché significa che non sono rincoglionito. No, no, assolutamente. Però, però, lasciamo stare. Però, ti devo dare atto, perché hai aggiunto quell'avverbio parzialmente. Sì, è parzialmente. Perché tutto e poi ne parleremo. Sì. Però, ecco, questo momento, allora, vai avanti. Il momento abbiamo avuto negli ultimi giorni, come dire, del cambio, cambio, diciamo, della geografia di alcuni candidati che eletti, quindi consiglieri comunali, che sono passati, diciamo, dall'ultimo e quello della consigliera Morbidelli, che è passata nel gruppo misto, così come è stato quello del consigliere Marino, che dal gruppo misto è passato nel gruppo della Lega. Adesso, indipendentemente che sono rimasti nell'alveo della maggioranza, a totale sostegno del sindaco Ernesto tedesco, è chiaro che adesso il sindaco tedesco dovrà sicuramente rivedere, diciamo, alcuni equilibri, alcuni equilibri, che vuoi dire, è scontato questa cosa. Ha già toccato un punto, no caldo, caldissimo. È scontato. Senti, io penso di conoscerti, e senza nessuno proprio, lo dico tranquillamente, e che mi ascolta, ci può mettere le mani sul fuoco. Tu sei una persona squisita. Io penso di conoscerti, e dagli occhi ho visto, hai detto, al nome di Marino tu hai provato una certa amarezza. Sì, l'amarezza sì, perché, voglio dire, indipendentemente, diciamo, dalla mia appartenenza al gruppo di Forza Italia nell'ultima elezione, nell'ultima campagna elettorale del 2019. Marino ha una storia, una radice storica, diciamo, nell'ambito del gruppo di Forza Italia, e chiaramente già il fatto di essere poi, come dire, trasmigrato, diciamo così, tra virgolette, consentimi questo termine, diciamo, nel gruppo visto, e poi nella Lega, è chiaro, un po', diciamo, siamo rimasti un po', più che altro dispiaciuti e amareggiati, perché, tra l'altro, con Marino avremmo potuto, come dire, proseguire un certo tipo di lavoro e di rapporto, ma poi, voglio dire, ognuno ha la sua... Che bisogna, mi permetto soltanto di dire questo, guai a fraintendere, Marino sarà la persona più squisita di questo mondo. Io, per quanto mi riguarda, se parlo di Marino, parlo di Marino in quanto politico. Allora, non posso non rilevare che Marino si presenta con la lista di Forza Italia. Viene sonoramente trombato, perché non riesce a entrare in Consiglio Comunale, ha però la fortuna di essere surrogato, entra in Consiglio Comunale, sempre col distintivo di Forza Italia, nell'occhiello sul bavero della giacca, perché taluni, consiglieri comunali di Forza Italia vengono eletti assessori, quindi lascia, entra già il gruppo misto, già l'adestato, però, perlomeno per quanto mi riguarda e per quanto sta dimostrando Frascarelli, non è che lui ha proprio, si senta ancora, mi è parso di capire, un componente di Forza Italia, anche se sta nel gruppo misto. Lui passa addirittura in un altro partito dove non è stato eletto. Beh, guarda, io personalmente, se fossi stato io Massimo Boschini, diciamo questo salto della quaglia, non l'avresti fatto, non l'avrei manco pensato, sinceramente parlando. Poi è vero che nell'ambito, diciamo, nei propri gruppi politici, nel proprio partito, vuol dire, c'è la democrazia, diciamo, più ampia nel poter discutere e portare avanti anche iniziative e proposte che possono essere condivise come non possono essere condivise. È chiaro che pure all'interno del gruppo c'è chiaramente la democrazia nel votare e far, come dire, passare quel provvedimento rispetto a un altro. Però, alla fine, vuol dire, comprendiamo sicuramente la decisione, non la comprendiamo la decisione, diciamo, di Marino, però, ecco, soffermiamoci soltanto su questo passaggio e dilottiamoci su altre questioni che sono, diciamo, un po' più... Intanto, diciamolo e ripetiamolo, se è una piedina fondamentale dello scacchiere della maggioranza, perché capogruppo di Forza Italia e Forza Italia è ancora un gruppo abbastanza consistente. È un gruppo consistente. È quello che non si può dire, oggigiorno, alla luce dei fatti che sono accaduti, di Fratelli d'Italia e della Svolta, perché hanno un consigliere a testa. Un consigliere a testa? Un consigliere a testa, Fratelli d'Italia e la Svolta. Due assessori. A questo adesso lo aggiungerei a te. Volevo completare e ti lascio perché tu sei il protagonista della trasmissione, mi scuso se ti tolgo del tempo. Però la domanda te la devo fare. di fronte ad un gruppo che è diventato consistente, come quello, il gruppo misto, e la stessa Lega, che però la Lega penso che non si possa lamentare praticamente di nulla, però che succede? Gli equilibri di questa maggioranza mi sembra questo. Gli equilibri potrebbero cambiare, potrebbero cambiare. Ecco il verbo della trasmissione di questa sera. Potrebbero cambiare, perché di fatto anche la lista tedesco, voglio dire, che potrebbe rivendicare oggi con due consiglieri in consiglio comunale, oggi hanno un assessore e l'altro potrebbero dire come mai oggi gruppo la Svolta, un consigliere, quindi un assessore vice sindaco, fratelli d'Italia, un consigliere e l'assessore alla cultura, è chiaro che qui bisogna, e chiaramente anche il peso del gruppo misto oggi comincia a essere anche determinante, molto determinante, diciamo con tre consiglieri. Il compito, diciamo, del sindaco, ma della maggioranza tutta sicuramente è una fase, secondo me, molto delicata e molto complessa. Tu cosa prevedi? Ma io prevedo che qualcosa cambi, così qualcosa cambi, anche perché noi come gruppo di Forza Italia avevamo già, come dire, anticipato qualche mese fa, se non addirittura 4-5-6 mesi fa, diciamo che anche per noi gli equilibri devono essere in qualche modo rimossi per il fatto che rivendichiamo alcune posizioni alla luce anche del consenso elettorale del 15% del 2019. Non c'è dubbio, non fai una crisi. Io però ti voglio dire una cosa, abbiamo sempre dimostrato, io oggi che ricopro questo ruolo da capogruppo, ho dimostrato intanto sempre un'apertura nei confronti soprattutto dell'amministrazione tutta, laddove si trovassero quegli equilibri che comportano e inducano chiaramente il sindaco ad andare avanti nella gestione amministrativa della città. No, anche perché questo... È importante questo, è in modo particolare. No, non questo direi, aggiungerei. Io penso che questo. Ma io capisco benissimo, perché credo che tu possa alludere a un fatto che è fondamentale proprio perché poi tutta la città ne tracca vantaggio. Deve trarre una vantaggio solo la città. Esatto. Io questo, diciamo, è come mio, come dire, formamento. Però, ritornando a quello che hai detto che tu hai espresso in maniera davvero, davvero ultratrasparente, il famoso rimpasto che era stato annunciato e che poi non si è dimostrato neanche un antipasto, però di fatto ha lasciato il tempo che trova, perché il commercio ancora non è stata colmata quella lacuna. E oggi, in un momento di emergenza Covid, ma non solo emergenza Covid, ma questo sicuramente ha aggravato un po' la situazione, oggi ci vuole un interlocutore che in qualche modo si interfaccia con la categoria... Io è molto antipatico, tu sei benissimo che è antipatico, autocitarsi. Io domenica scorsa l'ho scritto, che è quello che non so se tu l'hai letto. Sì, leggo attentamente... No, non parte attentamente, no, ho letto che la lacuna del commercio va risolta, va risolta e va colmata, quindi quel rimpasto poi, tutto sommato, c'è stata quella staffetta tra l'avvocato Roscioni e Sandro De Paulis, che tra l'altro la scorsa settimana è stato ospite qui, so se l'hai seguito... Ho seguito attentamente, ho seguito anche... E' un tuo fedelissimo... E' un nostro fedelissimo di Forza Italia. De Forza Italia, per carità. E abbiamo poi argomenti interessanti. Quindi questa volta invece sarebbe un rimpasto... Adesso è un rimpasto robusto, lo definirei un rimpasto robusto. Ecco. E credo che sarà un rimpasto... Dipende in mezzo, dal cambiare passiamo al robusto. Un rimpasto robusto che sicuramente consentirà, credo a questo punto, di rilanciare ancora di più l'azione amministrativa del sindaco, che sicuramente porterà, diciamo, fino al 2000 e 2024, salvo che non ci siano altri, come dire, terremoti in corso. E io non lo so. Voglio dire, guardi, la figura dell'assessore al commercio è vitale oggi, è vitale. La dimostrazione anche dell'ultima, come dire, mobilitazione civile che c'è stata quella domenica, all'indomani, diciamo, di questi DPCM che chiaramente, come dire... Ma sì, ma infatti, ma quello è il problema, è proprio... Deludono tante categorie, anzi, quasi tutti, diciamo, vuoi dire, no. Ma non c'è, ma è tutto legittimo quello che stai dicendo. Ma tanto più è proprio un comparto che sta proprio nel mirino, ma no, sta proprio al centro di questa crisi. Di questa crisi. Oggi i comparti, diciamo, il comparto del commercio è il comparto sanitario. Certo. Il comparto sanitario chiaramente, diciamo, è colpito in maniera diretta, da una parte con, come dire, il sacrificio, la benegazione di tutto il personale medico, operatori sanitari, infermieri professionali che tutti i giorni, dopo anche la riapertura del drive-in, del largo della pace, vengono processati centinaia e centinaia di tamponi tutti i giorni, quindi sono arrivati chiaramente, non c'è un ricambio, non c'è un ricambio perché, vuoi dire, si ha difficoltà pure di trovare personale che chiaramente in qualche modo sostituisca chi già viene da un periodo di sei mesi di Covid, di emergenza Covid, di emergenza sanitaria. Si cominciano a sentire chiaramente... No, anche perché poi, per quanto riguarda il commercio, lo sappiamo benissimo, perché se proprio non ci dovesse essere un'azione veramente robusta da parte del governo, veramente qui... Ne parliamo oggi come il famoso ristoro, no? Ah, sì, il famoso ristoro. Diciamo ristoro, ma vuoi dire, è una categoria che oggi... Qui rischeremo di trovarci veramente con gente decisamente sull'astrico. E con un aumento della disoccupazione, veramente ci troveremo in un momento, diciamo, di forte disagio sociale. E senti, il parzialmente di prima, naturalmente relativo al CSP, è una nota di merito nei tuoi confronti. Sì, vabbè, ci sta che la maggioranza abbia brindato, non ci sta, io lo ritengo anche perché, se il 15 dicembre questa banca non finanziasse CSP con i 4 milioni e 800 mila euro, che sappiamo, che 500 mila sono già stati messi nel caldaio. Certo, e servono, diciamo, per sopravvivere, diciamo, fino alla fine dell'anno. E non dimentichiamo che sono 500 mila euro, che pesano sulle spalle dei cittadini. Certo, ma noi questo ne abbiamo fatto, come dire, non una battaglia ideologica, voglio dire, assolutamente... Perché noi come Forza Italia abbiamo fatto anche dichiarazioni pubbliche, qual era il nostro pensiero sulla società partecipata, municipalizzata, voglio dire... Però da altre parti, e tu sai benissimo, sono stati squilli di tromba, addirittura dichiarazioni come adesso sono serviti, non voglio dire chi l'ha detto, lo scriverò domenica, però chi ha detto sono serviti i commentatori che vedevano, ma i commentatori fanno il loro mestiere, cioè i giornalisti, se c'è un certo contrasto dalle stesse forze di maggioranza... Allora, noi abbiamo sempre... Allora, se il 15 dicembre non accadesse questo miracolo, che noi ci curiamo tutti e ci è... Ce lo curiamo pure noi, perché proprio per questo abbiamo voluto, abbiamo voluto a tutti i modi, abbiamo voluto intanto che si approvasse l'emendamento presentato dal consigliere Perello, che è stato il tuo ospito e qua in trasmissione, e bisogna dare atto di tutto quello che ha fatto Perello in queste ultime settimane, così abbiamo riconosciuto anche un lavoro svolto dall'assessore alle partecipate, Massimiliano Grasso, perché l'argomento di CSP era una materia, come dire, complessa... Però non credo che Massimiliano Grasso possa essere rimasto tutto proprio soddisfattissimo, perché quattro emendamenti sono quattro emendamenti pesanti, tra cui quello... Quello di Forza Italia era tra i quattro... Quello poi la diminuzione della Tari e compagnia... Esatto, ma voglio dire, ma noi abbiamo visto sempre i due aspetti della medaglia, da una parte il salvataggio della società, il salvataggio chiaramente del lavoro di tante famiglie, di tanti lavoratori, ma nello stesso tempo abbiamo potuto vedere anche la città, in qualche modo, cioè i 38 mila, i 40 mila cittadini civitavecchiesi che, come dire, vogliono vedersi oggi, dopo quello che noi abbiamo in qualche modo anche dichiarato durante la campagna elettorale che CSP, cioè che la qualità dei servizi, ma la qualità soprattutto della città, migliorasse. Quello che succede... Ed è per questo che abbiamo voluto condizionare il provvedimento di CSP alla luce, diciamo, di una banca, di una banca che in qualche modo magari si rendesse disponibile, diciamo, a erogare i famosi 2 milioni di euro. Noi saremmo ben soddisfatti di arrivare... Sono 4 milioni e 8. Esatto. 4 milioni e 8. Perché poi dopo si andrebbe, subito dopo, dal notaglio a fare il conferimento dei beni. E allora la domanda, proprio da parte del cosiddetto avvocato del diavolo, è questa. Cioè, se non succedesse, ci sono soltanto due vie, eventualmente, percorrere. Una, quella che porta direttamente i registri al tribunale. L'altra, quello che dice pure Perello, la privatizzazione completa della società. La privatizzazione completa, ad eccezioni di quei due servizi essenziali... Ma quali sarebbero? Ma uno potrebbe essere l'igiene urbana. L'igiene urbana e il trasporto pubblico, e il TPR. Sì. Questi sono i due servizi che in qualche modo potrebbero essere, potrebbero essere... Per il resto... Per il resto... Porta aperte ai privati. Porta aperte, diciamo, alla reinterializzazione, diciamo... Come la vedi questa ipotesi? Beh, io, noi l'abbiamo sempre detta, non voglio negare, diciamo, quello che abbiamo sempre pensato su una società municipalizzata. Perché vedi, ci sono anche, come dire, degli esempi anche presso l'autorità portuale, dove alcune società che sono state chiaramente, come dire, partecipate e quindi, diciamo, come dire, anche esternalizzate verso privati, in qualche modo hanno migliorato sia la qualità del servizio, in modo particolare, e anche il beneficio, diciamo, di quei privilegi che in qualche modo devono essere, in qualche modo, anche, come dire, riconosciuti a chi lo merita, voglio dire, no? Quindi, di fatto, il privato non deve essere, come dire, uno spavento, diciamo, per i lavoratori. No, però che è romanzo. Secondo me potrebbe anche essere uno stimolo. Però se si determinasse un rovescio della medaglia, in questo senso, che il privato ritenesse che il settore di sua competenza fosse un po' obbelato dai suberi inaccettabili? Beh, certo, ma lì c'è sempre la partecipazione anche della parte, diciamo, della parte pubblica. Sì, ma non sarebbe più il socio unico. No, non sarebbe più il socio unico, però questo ti fa ricordare al tempo quella che fu Etruria Servizi, dove c'era una compartecipazione tra pubblico e privato, se tu lo ricordi bene. No, poi è chiaro che la società, poi, nel corso dei tempi, diciamo, come dire, ha avuto un ulteriore, come dire, appesentimento da parte del personale. Io direi di aspettare il 15 dicembre, in qualche modo. Io reputo fiducioso fino a un certo punto. Da 1,10 quanto sei? Ma hai tolto la domanda? No, non sono tanto fiducioso. Cioè, fiducioso, diciamo, al 50%. Ti dico come la penso personalmente. È una mia considerazione personale. Non voglio, come dire, lanciare allarmismi nei confronti di nessuno. Però, se ci fossero, chiaramente, così come c'è stato detto più volte, che c'erano delle manifestazioni di intenti da parte di alcuni istituti bancari, vediamo chi sono questi istituti bancari che si potrebbero rendere disponibili alla luce. Se si introducessero i privati, c'è da essere la garanzia assoluta per i lavoratori. Noi abbiamo sempre... Per i posti di lavoro. Noi non possiamo permetterci oggi di perdere altri posti di lavoro. Ma neanche uno! E' proprio per questo, Gian Piero, che noi, in emergenza sanitaria, all'indomani, chiaramente, di una nuova epidemia del virus da Covid, non abbiamo ritenuto e non ci siamo presi le responsabilità di preseguire questo percorso con la società municipalizzata. Non ci potevamo permettere, oggi, di poter mettere, come dire, all'angolo la società votando un fallimento direttamente. Non ce lo saremmo permessi, non ce lo sarebbe poter mettere nessuno in capo il sindaco. E magari all'indomani trovarci ulteriori, ulteriori dipendenti, diciamo, senza lavoro. Già lo siamo oggi in queste condizioni. Pensa domani, domani quando poi ci potranno essere, come dire, le serrande che si abbassano la categoria dei commercianti. Quindi c'è tutta una serie, diciamo, di categorie, lavoratori, commercianti, libri professionisti e non so che tipo di risposte noi potremmo dare. Senti Massimo, il PD, naturalmente per bocca del suo cavolo, proprio di bene, mi risulta che avesse chiesto che non fosse privatizzato il settore del verde pubblico. Invece voi non l'avete ritenuto accettabile. No, noi sul verde abbiamo ritenuto invece di portare avanti... No, scusami, però mi sembra di poter dire che il Presidente Carbone in qualche circostanza avesse dichiarato che loro sicuramente sarebbero stati in grado di curare il verde pubblico. Beh, noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto anche nella precedente trasmissione al quale io ho partecipato, così come lo vediamo tutti i giorni. Questa è una città dove, diciamo, la forza lavoro nel verde, diciamo, della società partecipata non è sufficiente a garantire chiaramente una pulizia, come dire, di manutenzione ordinaria della città. Quindi il vostro no a piedi bene non è stato ideologico? No, no, assolutamente. Ecco, eh? Assolutamente, assolutamente. Non era un no ideologico, era un no che allo stato dei fatti abbiamo potuto constatare, non ultimo, non ultimo, la pulizia che c'è stata straordinaria, diciamo, nella zona dell'area industriale. Sì, va bene. Voglio dire, eccezionalmente, voglio dire, è stata fatta una manutenzione straordinaria. Ma oggi se noi ricorriamo ad andare negli angoli, in alcuni angoli della città, in alcune aree, eccetera, eccetera, è chiaro che il personale che oggi è deputato, che è preposto a fare questo tipo di servizio, non riesce a garantire, non riesce a garantire perché questo? Ma tu pensi che... Ma quando è successo questo? È successo quando è stato avviato il discorso del porta a porta, no? Ma tu pensi... Hanno dovuto. E questo va bene. Quindi è sempre il regalo, tra virgolette, che ti hai ricevuto dai Cinque Stelle. Vabbè, no, abbiamo ricevuto. Ah, sempre questo? No, il regalo che abbiamo ricevuto... La soffa è sempre questa. No, ma non era la soffa sempre questa. No, no. Abbiamo trovato una società in cui il verde pubblico era stato completamente ridimensionato perché in quel momento il Movimento Cinque Stelle con a capo il sindaco Consolino ritenevano di avviare il porta a porta così come l'hanno fatto. Però se mi permetti io ancora vi chiedo come se nell'area industriale non ci sarebbe potuto essere anche l'opera della stessa CSP e avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato. No, no. Che difficoltà? Perché quali erano queste difficoltà addirittura stratosferiche? Perché il personale oggi è impiegato, è poco il personale impiegato per poter fronteggiare e poter ricorre a una pulizia della città dal punto di vista della manutenzione ordinaria. L'abbiamo visto e di fatto... Una squadra adibita solo a quello... Sono una squadra a quello e poi magari... C'è 400 dipendenti CSP. Sì, è chiaro. E poi questo è anche come dire la nuova relazione che ci è stata sottoposta e noi proprio sul verde abbiamo voluto dare, cominciare a dare, come dire, quell'inizio per poter capire se magari l'esternalizzazione verso privati in qualche modo, come dire, rendessero questa città perché la città, la città, la città, la città, voglio dire, la città in qualche modo, voglio dire, lo vedrà, lo vedrà, eh. Ma questo che significa? Che magari volete rendere conto se ci sia qualche imboscato di troppo? Vabbè, questo lo vedremo anche perché... Ah, ecco. Lo vedremo perché poi dopo, voglio dire, la società, guarda che la società, io mi auguro che ci sia questa disponibilità da parte, come dire, della banca, no, perché poi... Accenta. No, voglio dire, la speranza, voglio dire, è l'ultima a morire, però voglio dire, ci sarà poi, come dire, questo monitoraggio continuo per capire se poi i numeri che in qualche modo ci hanno presentato oggi, domani poi questi numeri si determinassero. Monitoraggio da parte vostra? Monitoraggio da parte del controllo analogo ma anche da parte nostra. Ma anche e soprattutto da parte dei privati? Privati, è certo. Ah, beh. Questo sì. Perché? Quindi? Quindi il monitoraggio c'è. Oggi abbiamo messo, come dire, un punto in cui noi nei confronti della società vorremmo vedere tutto, il quadro completo, da parte, diciamo, dei consiglieri stessi, da parte degli assessori delegati chiaramente alla società partecipata, perché non ci vorremmo trovare magari fra qui, tra tre e sei mesi, nella situazione che ci siamo trovati magari a dicembre di dover... Comunque al momento CSP sta in stand-by. Al momento stiamo in stand-by. CSP è in stand-by. E quindi, voglio dire, è stato, come dire, un percorso complesso, voglio dire, estenuante. Diciamo, i lavori da parte di tutta la maggioranza, vorrei dire. No, poi indipendente che qualcuno si possa ritenere, come dire, parzialmente sconfitto, perché avrebbe voluto magari portare, come dire, completamente la sua, come dire, la sua relazione comprensiva, diciamo, di una banca che invece noi alla fine l'abbiamo voluta condizionare, perché non potevamo andare al buio, non potevamo eventualmente, come dire, disperdere quello che era il patrimonio, diciamo, del comunale. Il conferimento dei beni, non è che domani se la società, diciamo, fosse fallita e in qualche modo non ci fosse stata una banca, i beni poi sarebbero stati conferiti e qualcuno, bastava soltanto un creditore che in qualche modo presentasse in istanze di fallimento e poi le cose sarebbero complicate moltissimo. Quello che invece mi ha dato atto all'amministrazione e a voi tutti, che vi state spendendo in maniera davvero straordinaria il campo sanitario, perché è quello che sta succedendo. E qui c'è, come dire, il senso di responsabilità anche da parte dell'opposizione, perché vediamo come il dottor Tarantino ha dato tutta la sua disponibilità e il sindaco sta proseguendo anche lui quel tipo, diciamo, come dire, di percorso che era stato avviato nel corso, diciamo, della prima emergenza. Glielo impone pure la Costituzione. Sì, glielo impone la Costituzione. Io, tra l'altro, sono, oltre che capogruppo, sono il delegato alla sanità del Comune, quindi, diciamo, come dire, a stretto giro di, come dire, di gomito. Senti, ma c'è un lavoro sfibrante quotidiano. C'è un lavoro sfibrante. Guarda, credo che... Per esempio, il drive-in è giù. Quanti tamponi fa il giù? Vengono processati quasi una media di 150-160. Ecco, il buonarroti del dottor Tarantino. Altrettanti. Quindi? Altrettanti. Quindi giornalmente vengono processati oltre 300 tamponi, ma oltre di più di 300 tamponi, perché poi abbiamo anche il drive-in su dell'ospedale. Quindi, voglio dire, due drive-in, ospedale e Largo della Pace, che è stato riaperto da qualche settimana, perché... Senti, Massimo, la Dispo lì corre il rischio di diventare zona rossa. Sì. Tocchiamo noi ferro, Cirecchia, in che condizioni si trova? Beh, Civitavecchia, se il numero dei contagi cresce, voglio dire, mediamente, giornalmente, vuol dire, c'è una situazione che stiamo attenzionando, la direzione generale della ASLE, l'ultima, come dire, dichiarazione che c'è stata del direttore generale, mette tutti nell'allerta. Oh, ecco. Quindi quello che io voglio oggi, come dire, in qualche modo, invitare la cittadinanza tutta, la cittadinanza tutta, di fare attenzione e di rispettare quelle che sono le regole, che in qualche modo ci impone... Cioè, il protocollo ormai noto. Il protocollo ormai noto, cioè il distanziamento, l'utilizzo della mascherina e quando si dice oggi... Mani sempre pulite, continuamente igienizzate, eccetera, eccetera. Ma quando si dice oggi, e lo dice il DPCM, tutti, diciamo, gli ultimi DPCM hanno sempre detto che bisogna uscire il minimo indispensabile. Quindi non è detto che se oggi ormai c'è questa, come dire, questa regola, diciamo, non dico di coprifuoco, no, ma una limitazione della circolazione da domani sarà dalle ore 22 alle ore 5 della mattina. Non vuol dire che dai 5 della mattina fino alle 22... No, non si scatena. Si scatena, perché questo succede, eh. Succede in tutte le città, ma è successo... È successo quest'estate, no? Noi anche nelle ultime settimane, voglio dire, se non andiamo a fare delle passeggiate lungomare, voglio dire, nelle giornate, diciamo, in cui il clima civiltà vichese si presta, voglio dire, bisogna chiaramente... È qui che bisogna, come dire, invitare i cittadini a essere responsabili. Perché questo? Perché altrimenti noi andremo sicuramente a pesare ulteriormente nei confronti di chi oggi sta prestando il proprio servizio, il proprio lavoro con advenerazione nei vari presidi ospedalieri, nei drive-in, eccetera, eccetera. Questo non ce lo possiamo più permettere. E poi non ci possiamo neanche permettere, nel caso, di collassare la struttura ospedaliera. Ecco, la struttura assolutamente no. Perché se si rischiasse il collasso pure lì, poi sarebbe proprio drammatico. Guarda che, tra l'altro, le ultime notizie che sono apparse e che ne abbiamo chiaramente come informazione, guarda quello che è successo in un RSA che è il San Luigi Consaga Cervetri Radispoli. Appunto. Ci sono stati otto decessi con ulteriori 20 pazienti, utenti positivi all'interno della struttura. Cioè lì c'è un cluster, eh? Sì. E quindi, vuol dire, è tutto questo, eh? Quindi direi che nello stesso tempo, direi, ecco, anche per noi, oggi, sicuramente... E poi ce abbiamo l'esperienza delle nostre RSA. Certo che ce l'abbiamo. Di marzo. Ce l'abbiamo di marzo, e quindi ogni giorno operatori, dirigenti, stanno monitorando il territorio in lungo e largo. Guarda, questo ve lo posso dire in maniera con molta franchezza e con molta sincerità. Però ecco, non dobbiamo arrivare poi al punto tale che arriviamo a un punto di collasso, come dicevi te poc'anzi, no? Perché se arriviamo al punto di collasso non c'è più... Senti Massimo, dall'alto della tua carica, perché capogruppo, ripetiamo ancora, di Forza Italia, poi soprattutto per un partito come Forza Italia, che a differenza di quello che si verifica in campo nazionale, Cinecchia, Forza Italia è qualche cosa di robustamente concreto, e questo va detto dal punto di vista elettorale. Ecco, qui entriamo praticamente nel secondo anno di gestione della maggioranza tedesca, della gestione tedesca. Quale secondo te, diciamo che il primo anno è stato un anno di rodaggio, anche se avete già messo parecchia carne al fuoco, ma quali sono secondo te in questo secondo anno gli obiettivi principali da centrare e soprattutto da colpire? Allora, innanzitutto, qual è? Uno dei tanti, se non il primo in assoluto, e ne è stato, come dire, testimone la settimana scorsa il nostro Assessore De Paulis, sono le terme. Quindi le terme è uno chiaramente dei punti principali per poter portare, non dico a termine le terme, ma appunto meno di avviare, quantomeno, l'avvio della realizzazione delle terme. Quello che da sempre viene considerato il sogno civile di Chiesa. Cioè, da quant'è che ne parliamo delle terme? Da vent'anni. Il sogno civile di Chiesa? Sono vent'anni, sono vent'anni. C'era l'amministrazione di Sio, quindi... No, no, ricadiamo ancora, però, al di là delle amministrazioni, è il sogno civile di Chiesa. Le terme, quindi, uno. Io sono uno sportivo, diciamo, che pratica lo sport a livello amatoriale, perché mi è sempre piaciuto, lo continuo a fare negli spazi disponibili, il campo sportivo del fattore. Certo. Anche questo, con l'assessore De Paulis, ci ha dato proprio notizie in queste ultime ore. Lo hai ascoltato. E quindi, forse, forse, l'opera del fattore si completerà nell'anno 2022, se non ricordo male. No, è vero. È vero. Però il Palagalli resta un grosso... Il Palagalli è un Palagalli. Però lì sappiamo che c'è un nostro delegato, che è il consigliere Matteo Viacomiglio, che si sta prestando a 360 gradi. No, no, è molto attivo. È molto attivo non solo nel fatto specifico, diciamo, del Palagalli, ma nell'ambito sportivo. Soprattutto quando ci troviamo oggi in questa emergenza, in cui anche le associazioni sportive, non solo sportive, si trovano chiaramente in un'associazione di disagio straordinario. È stato un ottimo acquisto e di questo devo dare atto che... Però il primo obiettivo, secondo te, è le terme. Sono le terme. Non ultimo, cioè non ultimo, non è l'ultimo. Avevamo detto che avremmo dato corso alla riqualificazione delle periferie. Io penso che fra qualche mese si comincerà a vedere, come dire, i primi avvii di manutenzione. Avete già stilato un programma preciso? C'è un programma che l'assessore ha già stilato. Credo che andrà in gara prossimamente. I 3 milioni d'euro, diciamo, sono stati già in qualche modo programmati, destinati. Si partirà con le periferie di San Liborio, da Aurelia a San Gordiano. Quindi già questo è un fiore all'occhiello, vorrei quantomeno ritenerlo. Senti Massimo, l'attesa che voi state vivendo della rinomina, rinomina, non del nuovo presidente o del confermato presidente, ma comunque l'attesa di chi andrà a presiedere l'autorità portuale di Mollo Vespucci. La state seguendo con la massima attenzione. La stiamo seguendo con la massima attenzione. Perché il porto finalmente, tra il porto e il comune, ci deve essere finalmente la sinergia talmente stringente che possa portare dei benefici concreti alla città. Altrimenti non è possibile che ci siano due corpi estrani. Uno dalla parte, uno dalla l'altra. Questo è stato sempre, no? Questo corpo strano tra la città e il porto. E' inaccettabile. E' inaccettabile. Non so quali saranno, adesso sarà breve. A breve ci sarà. Sarebbe essere a novembre. A novembre, ormai è prossimo. L'ultima settimana, a meno che non sia decisa una vacazio. Certo, magari temporanea. Però la scadenza è prossima. Noi stiamo con la massima attenzione seguendo il percorso che porterà poi alla nomina o alla riconferma del Di Maio o d'altro. Però il problema è che noi dobbiamo in qualche modo interagire, sederci insieme al tavolo e cominciare a costruire un percorso nuovo. Quindi sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Senti, il 2021 Covid permettendo, dovrebbe essere pure la svolta per quanto riguarda l'area di Figuaretta. Perché voi praticamente già avete deciso, avete dato il benestare al centro, come vogliamo chiamare, outlet, centro commerciale, snodo per la mobilità, magari che in qualche modo si possono creare dei presupposti, eccetera. Però soprattutto questo numero... Questo era un altro dei elementi che in qualche modo, come dire, nel momento in cui ci siamo seduti abbiamo cominciato a discutere. No, anche perché... Anche perché da quel progetto ci deve essere un ritorno economico per il bilancio del comune che a voi è mancato. Che c'è mancato e tuttora ancora c'è mancato. E quindi questo, diciamo, è l'assessore al bilancio che sta portando avanti il percorso. Credo che l'assessore Di Paolo, anche lei si sta dimostrando, come dire, molto, molto, molto attiva su questo argomento. E la voce che dovesse passare al commercio? Beh, io qui non voglio entrare in questo, no, non voglio entrare in questo. Sì, perché non è arrivato pure a te quella voce. È un compito che spetta chiaramente al nostro sindaco, con tutte le forze di maggioranza che chiaramente... Ma non te l'è arrivata questa voce. Certo che l'è arrivata. Ebbè, vabbè, c'è l'assessore... Quando ti è arrivata che sei arrivato, sto un po' meravigliato. Beh, io penso che lei, almeno come bilancio, abbia portato avanti fino ad oggi un lavoro regreggio e questo ne dà dimostrazione del suo buon lavoro anche la parte dell'opposizione. Ma non c'è dubbio. Te lo dico apertamente durante le commissioni di lavoro, voglio dire... Io non la conoscevo di Paolo, quando me la sono trovata di fronte. Non è facile ricoprire quel ruolo, soprattutto magari se sono un avvocato, ho una professione completamente diversa, invece sei dimostrata con i numeri in una materia che non è complessa, è molto più che essere complessa. Ma il perro intorno al quale ruota tutta l'amministrazione? Io non la conoscevo la di Paolo, l'avvocato di Paolo, quando me lo sono trovato avanti qui in questa trasmissione sono rimasto proprio felicemente meravigliato. Io sarei più propenso che quel posto venisse comunque ricoperto, eventualmente ci fosse un nuovo rimpasto di giunta, fosse nuovamente riconfermato all'assessore di Paolo al bilancio. Ma non c'è dubbio. Anche perché ha portato avanti fino ad oggi, un anno e mezzo, un certo tipo di percorso. Penso che potrà proseguire con lo stesso impegno, con la stessa preparazione, voglio dire, e portare chiaramente alcuni... Ma state parlando sull'assessorata al commercio voi di Forza Italia? Guarda, se te lo devo dire tutta, noi siamo più... perché questa è una nostra posizione, più che commercio noi puntiamo sull'attività del sociale, è quello che a noi ci interessa, in modo particolare. Il sociale, abbiamo delle figure sicuramente che meritano di essere, magari, che possono, che potranno eventualmente ricoprire quel ruolo e insieme, diciamo, a queste figure costruire una squadra che in un momento come questo... Capirei poi in tempo di Covid, dei servizi sociali? Certo, i servizi sociali sono, come dire, sono nevralgici, sono nevralgici e lo vediamo tutti i giorni, diciamo, dove continuamente ci vengono richieste, come dire, situazioni, ci vengono chiaramente attenzionate situazioni, diciamo, dei nostri concittadini che vivono in un momento di particolare disagio. Senti, come Forza Italia, invece, i vostri programmi proprio strettamente, prettamente politici sono soddisfacenti? Allora, voglio dire, io voglio dare merito, innanzitutto, al nostro gruppo, che è formato oggi da due, perché siamo io e Iacomelli, abbiamo però il presidente del Consiglio Comunale che è una figura super parte, quindi, diciamo, è una figura che sicuramente è riuscita a condurre l'ultimo Consiglio Comunale, per quanto era in videoconferenza, ma, voglio dire, anche lei ha partecipato chiaramente alla costruzione di un percorso che arrivasse poi all'approvazione dell'atto di CSP e quindi Forza Italia su questo ci può mettere la bandierina, così come possiamo mettere la bandierina su tante altre cose in cui noi siamo stati sempre solidali e abbiamo sempre dimostrato la nostra, come dire, disponibilità, non abbiamo mai creato, come dire, situazioni di litigio all'interno della maggioranza. Il gruppo... Beh, la Mari, come si dice in gergo, sta dirigendo la musica proprio... Guarda, sta dirigendo il Consiglio, la Presidenza del Consiglio Comunale, oggi merita il nostro, il mio personale, ma il nostro personale applauso per come sta conducendo l'attività, diciamo, consigliare, non solo quella del Consiglio Comunale, ma anche quella delle commissioni consigliari, voglio dire, no? Non l'ultimo siamo arrivati poi alla nomina del Presidente della Commissione Urbanistica, proprio ieri è stato nominato Raffaele Cacciapuoti e quindi abbiamo completato, abbiamo completato, diciamo, come dire, le nomine dei Presidenti delle commissioni consigliari. Beh, questo è un altro passo importante. E' un altro passo davanti perché l'altro, come dire, l'altro assessore nevralgico, oltre quello a essere del bilancio, oggi deve essere ancora di più quello dei servizi sociali, è quello dell'assessorato all'urbanistica. Urbanistica. Urbanistica. L'avvocato Roscioni. L'avvocato Roscioni, ci conosciamo da tanto tempo, è un professionista. Anche De Paulis. Anche lui è un professionista valido. De Paulis ha la sua esperienza, oltretutto la conoscenza della macchina da più di vent'anni, se non più di vent'anni, quindi io penso che ci sono i numeri. Quindi gli orizzonti? Ci sono i numeri per poter avviare un nuovo percorso. Orizzonti rosi. Orizzonti rosi. Io credo che a breve potremo, come dire... Gli ostacoli che praticamente sono un po' più difficili da superare, o quantomeno più ostici, quali sono secondo te? Ma gli ostacoli che tu parli dal punto di vista politico... No, 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 dal punto di vista politico io immagino quali sono. Però è chiaro, io faccio solo l'uvilissimo osservatore, voi, stando proprio nel palazzo. Ma io al di fuori di altri ostacoli, non è che vedo ostacoli che in qualche modo ci fanno preoccupare. Noi abbiamo messo in moto la macchina dal punto di vista della programmazione, ci sono alcuni interventi che sono di interesse per la collettività, per la città. Partiamo dalla riqualificazione del lungomare con la barriera soffolta. Quindi, vuoi dire, oggi in un momento come questo dell'emergenza sanitaria è questo che ci preoccupa più di tutto. È questo che è l'ostacolo che dobbiamo in qualche modo, come dire, superare e fronteggiare. Perché sai benissimo, carissimo Giampiero, che da qui a qualche giorno, forse fra qualche settimana, noi ci troveremo con un numero di contatti, secondo me, superiori rispetto a quelli che sono oggi. Anche perché sicuramente ci sarà il virus influenzale, quello che è il virus influenzale, rispetto a quello che è poi il virus... Ma sempre, pure in base alla cosiddetta incubazione, di tolte giorni, dieci giorni, quant'è, dieci, quatt'ora? Guarda, io ti suggerirei solo di farti una passeggiata così, per andare presso i drive-in e accorgerti di quello che sta accadendo in questi ultimi giorni. Quindi, pur a Cilecchia, non è solo quello che è stato in televisione? No, no. Anche qui succede? Anche qui succede, certamente sì. È tutto il distretto sociosanitario, voglio dire, che è attenzionato, a meno per quanto ci riguarda come piani di zona, voglio dire, con i quattro distretti, quindi c'è il distretto, le quattro città, quindi Civitavecchia, Tolfa, Lumiere, Santa Marinella. È un lavoro, come dire, è un lavoro che ci porta sicuramente a... Come sempre inevitabilmente accadde, siamo arrivati in retta d'arrivo. Ah, già sono trascorsi 45 minuti. Ma questo è perché è stato il merito tuo che hai spiegato le cose. Spero di averle spiegate, voglio dire... Beh, guarda, fidati di quello che ti dico, l'hai spiegato in maniera proprio esemplare. Gli ultimi cinque minuti, io sono abituato, proprio ormai è diventata, diciamo così, una tradizione di questa trasmissione, tutti interamente a te e vorrei che tu, così, aprissi un po' l'orizzonte di quello che veramente speri che possa accadere. Allora, spero che... Covid, naturalmente lo sappiamo. Allora, il Covid, speriamo... Ma il Covid, vuol dire, sarà da qui a marzo, dovremo andare avanti insieme al Covid da qui fino a marzo. Dal punto di vista della virtuosità amministrativa. Per il ben di Civitavecchia. Io spero e auspico a me stesso, ma anche ai miei collaboratori, ai miei colleghi, alla maggioranza, agli assessori, di migliorare innanzitutto la qualità della città, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista in cui è il cittadino oggi, da noi. Dal punto di vista ambientale, caro Massimo, sei ottimista. Sono ottimista. Ma bene. Stiamo alla vigilia del gas. Eh, ho capito. Usciamo dal carbone e andiamo al gas. Eh, ho capito. Se non è zuppa è pan bagnato. Lasciamo bene. Va bene. Poi ne parleremo. Quello è un altro argomento che poi... Ma certo, e tu sarai nuovamente ospite. Sarò disponibile a parlare anche di questo argomento, quando questo argomento sarà ormai prossimo. Soprattutto poi da un personaggio come te, che sei inserito proprio nel contesto proprio socio-sanitario, soprattutto sanitario. Ma mi dici se ti possiamo dare poi dati epidemiologici e quelli che sono. Vabbè. E non ne voglio parlare adesso, perché è bene, questo è bene lasciarla ad un'altra trasmissione. Quindi, voglio dire, è virtuoso. Ti ho detto, quello che erano per me, che erano per noi, come dire, i punti essenziali dal programma che ci siamo detti. Intanto la società partecipata, municipalizzata, per me, come dire, all'orizzonte spererei di vederla, come dire, rifiorire. Per il momento è un mezzo successo. È un mezzo successo parziale, come ho detto, però spero che questo successo sia completamente completo. Ce l'auguriamo. Nello stesso tempo. Voglio che in qualche modo anche le periferie che sono state attenzionate migliorino la loro qualità dei servizi e poi dovremmo creare i presupposti per dare risposte a tanti cittadini che ci chiedono il posto di lavoro. E qui dobbiamo creare gli strumenti per poter dare poi delle risposte concrete, ma non quelle che in qualche modo possono, come dire, soddisfarli parzialmente. Questi sono, diciamo, come dire, i tre punti, ma stiamo lavorando al fianco del nostro assessorato per quello che abbiamo detto. Ripeto, la città merita quello che noi abbiamo annunciato durante la campagna elettorale. Io sarò vigile, attento a quello che noi abbiamo detto. Sono il capogruppo di un partito, diciamo, di maggioranza, ma di un partito che ha avuto un consenso elettorale del 16-15%. Abbiamo tanti nostri delegati che oggi sono stati messi in campo e con il quale noi giornalmente, quotidianamente, settimanalmente incontriamo per capire meglio dove poter mirare le nostre attenzioni e le nostre risposte. E direi che siamo a disposizione per dare risposte laddove siamo in grado di dare risposte. Comunque io sono sempre a disposizione di tutti, sapete dove mi trovo, dove lavoro. Su questo non c'è dubbio, conoscendoti so benissimo. E c'è un'altra cosa, non voglio dimenticare questo. Non voglio dimenticare questo. Fra qualche giorno il consigliere Frascarelli sarà vicepresidente della Lancia. Va bene, a parte questo, ma darà la notizia dell'Asco del Falegname. E l'Asco del Falegname, questa è un'altra opera che questa maggioranza è riuscita a portare a termine. L'Asco del Falegname di Canale Monterano. E per Giancarlo Frascarelli va detto? E per Giancarlo Frascarelli va detto? Va detto. È stato lui l'artefice del raggiungimento di questo risultato. Lo voglio dire proprio a chiaro note. Per cui dovrà essergli tributata una standing ovation. Una standing ovation e io gli attribuirò la mia standing ovation. Benissimo. Massimo Boschini, mi rimane soltanto di ringraziarti. Grazie per la vostra... E di darci appuntamento alla prossima occasione. Alla prossima occasione, certo. E parleremo dove parleremo, al corso della quale parleremo di ambiente. Soprattutto di ambiente. Soprattutto di ambiente. Di nuovo grazie a te. Grazie, buonasera. E soprattutto grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento. Buonasera a tutti.